Le corse su strada tornano nel cuore di Roma, all'Eur, con il primo rally di Roma capitale al Colosseo Quadrato. Migliaia di romani, curiosi ed appassionati del motorsport, hanno potuto ammirare l'evoluzione dei 51 partecipanti che hanno sfidato il cronometro nella prova speciale che da viale del turismo li ha portati fino all'arrivo di fronte al Palazzo della Civiltà del Lavoro. La prova speciale del primo rally di Roma capitale si è disputata proprio dove doveva sorgere il Gran Premio di Formula 1. Le gradinate del Colosseo Quadrato, grazie anche ad una giornata primaverile, si sono riempite velocemente ed hanno svolto la loro funzione di tribuna naturale. Ad giudicarsi, la prova speciale in città è stato il 7 volte campione italiano Paolo Andreucci sulla Peugeot 207 S2000. Il pilota toscano ha fermato il cronometro su 1 minuto e 18 secondi e 4 millesimi, secondo posto per il flusinate di Cosimo, con la Peugeot 206 WRC a solo mezzo secondo e, a pari merito, Beltrami a bordo della Citroen C4 WRC. I tempi della prova speciale di Roma si sono sommati con quelli ottenuti dai concorrenti domenica sulle strade del Reatino. A vincere il trofeo del rally di Roma è stato l'equipaggio dei Dominici Schiarcossi su Ford Focus WRC. Oltre ad una decina di piloti professionisti, alla prova dell'Euro hanno partecipato anche molti equipaggi privati, che alla vista del pubblico non hanno retto all'emozione.